Non c'è pace per Saman, forse ci sarà giustizia. Rinviati a giudizio i cinque parenti accusati di aver ucciso la ragazza diciottenne pakistana scomparsa a fine aprile di un anno fa da Novellara nella bassa reggiana e mai ritrovata. A processo andranno lo zio e i cugini, oltre al padre e alla madre della ragazza, tuttora latitanti, quasi certamente in patria. La prima udienza del dibattimento è stata fissata per il 10 febbraio del 2023. Il 3 febbraio 2021 invece Saman raccontava in un'ordinanza del riesame la sua vita. Davanti a un carabiniere spiegava perché non voleva saperne di quelle nozze imposte e da qualche mese questa diciottenne era già ospite di un centro protetto. In quella stessa deposizione raccontava del soggiorno in Pakistan durante alcuni mesi. Nel corso di quella visita Saman venne fidanzata con il cugino più grande che non le piaceva. Ai carabinieri la ragazza disse «A mio padre ho detto che non volevo farlo» e lui mi ha picchiato. Saman, licenza media, il sogno di continuare gli studi aveva infatti chiesto aiuto ai servizi sociali di Novellara. Il borgo Nereggiano, in cui viveva con la famiglia, in un casolare non lontano dal posto in cui venne uccisa, secondo le accuse dai genitori Shabar e Nazia, dallo zio e da due cugini, strangolata e smembrata, secondo un'ultima testimonianza, il corpo non è stato ancora trovato, forse è stato gettato nel Po.